I dati da Gianchieri, Michele, i dati della Copropia sono Aquili Marco, Bugatti Azzurra, Giannulli Andrea, Coutini Leonardo, Parampa Francesco, Gattini Michele, Lillini Andrea, Lucchini Alessio, Lillini Michele, Marasca Valentina, Battieri Federico, Gattini Alessio, Bertoletti Giorgio, Petrini Lorenzo, Gattini Alessia, Gereno Diego, Tessari Gatti Noemi, Gattoni Rocchieri, Tornari dei Marziani, Stefano Lorenzo e Valentini Luca. Grazie a tutti. 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 e ci sono la coreografia degli auguri della società dell'Ostitale che salutiamo fondamentalmente con un applauso mentre tutto si sta preparando per la contesa Junior